Ci spieghi che cosa è questa Accademia Faunistica Bergamasca? Accademia Faunistica Bergamasca, detta anche Accademia Venatoria Bergamasca, è un'istituzione di carattere culturale che ha una duplice finalità. La prima è quella anche di ricercare a livello storico la memoria per quanto riguarda la tradizione venatoria, la tradizione faunistica della provincia di Bergamo, che è una delle più antiche. La seconda funzione è quella invece di convenzionarsi con aziende bergamasca di formazione per realizzare tutti quei corsi di formazione e di promozione nell'ambito venatorio che possono essere utili al cacciatore ma anche all'ambiente e anche alla fauna selvatica. Quindi organizzare tutti i corsi ad esempio di specializzazione, i corsi di miglioramenti ambientali, i corsi di ripopolamento faunistico e destinati ad una serie di persone, le più diverse, dal cacciatore all'amante dell'ambiente a quello che invece ha finalità di ripopolamento faunistico, quindi a tutti i cittadini che hanno la volontà di impegnarsi nell'ambito venatorio faunistico ambientale. Naturalmente si utilizzeranno i migliori docenti, i deregatori di carattere regionale o nazionale e questi corsi avranno anche dei costi che verranno sostenuti da coloro che li frequenteranno perché se sono corsi di valore devono anche avere un costo. E quindi ecco che la convenzione o l'accordo di programma con ABF diventa fondamentale perché l'azienda bergamasca di formazione curerà tutta la parte economica ma anche organizzativa per quanto riguarda questi corsi. Quindi alla provincia la parte prettamente di ricerca e di culle culturale, ABF invece tutta la parte importantissima però della utilizzazione dei docenti e dell'escrizione dei corsi. Queste in linee generali sono le finalità dell'Accademia che spero e mi auguro possa partire con i migliori auspici per il bene della provincia, del territorio, dell'ambiente, della fauna selvatica e anche e soprattutto del cacciatore.